E' sera, ormai siamo intorno alla sesta ora del walk around e incontriamo Antonella Soldo, vicepresidente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Antonella, come ti sembra la partecipazione di tutto quanto tempo è che stai qua camminando? Non moltissimo, in realtà si è rapportato a quello di Mina, ho fatto un'ora e mezza di camminata per il momento, abbiamo girato intorno in questa piazza con queste magliette per chiedere al Parlamento di rispondere a questa legge che abbiamo depositato un anno fa esattamente, per la quale abbiamo raccolto migliaia di firme, migliaia di cittadini che al momento sono inascoltati, il Parlamento è fermo su questi temi, non ci sono cenni, benché minimi, da parte anche di deputati, se non singoli o senatori, quindi è una forte lacuna in questo momento. Siamo qui a camminare guidati dalla tenace della forza di Mina che intende fare tutte e venti le ore di camminata, sono mesi che si allena e arrivando a piedi da casa sua fino al partito, facendo dieci chilometri al giorno per avere la resistenza di essere qui per tutta la notte fino a domani mattina e chiedere con questo atto non violento, silenzioso, che qualcuno risponda. Grazie Antonella Soldo.